Ciao, sono Milena, ho 16 anni e studio presso un liceo di scienze umane. Il mio sogno è diventare una grande ballerina e la mia paura è quella di non riuscire a realizzare il mio sogno, anche se sto seguendo vari studi. Se potessi vorrei dire al garante di comunque continuare ad impegnarsi per noi, i ragazzi, per i nostri diritti e semmai grazie a lui riusciremo ad avere un futuro migliore.